Enrico D'Agostino, buongiorno. Presidente del Comitato Liberi Cittadini di Certosa, il municipio Quinto è uno dei municipi genovesi con la più alta percentuale di infiltrazione mafiosa. Sì, purtroppo sì, di tanti primati abbiamo anche questo in Valpolcevera. Basta prendere le relazioni della DIA che escono semestralmente, dove purtroppo la nostra vallata viene spesso nominata. E specialmente il quartiere di Certosa, dove risulta che le più alte percentuali di infiltrazioni mafiosi e di gruppi mafiosi stanno proprio qui nella Valpolcevera e a Certosa in particolare. Si parla ad esempio di infiltrazioni mafiose anche per i cantieri del Terzo Valico? Sì, purtroppo sì, le cronache che leggevamo in questi giorni ne hanno dato ampio risalto. Purtroppo da quando erano iniziati avevamo avuto questi primi sentori e adesso purtroppo, mi spiace dirlo, ma siamo stati profeti in patria. Il municipio è stato attivo nel contrastare questi fenomeni di infiltrazione mafiosa? Devo dire di sì, grazie specialmente alla Presidente Iole Muruni che ha preparato un tavolo proprio sulla legalità che si riunisce costantemente e periodicamente e devo dire che un po' di risultati li abbiamo avuti, quantomeno come conoscenza, perché tu quando parli di mafia passi come un pazzo, come un visionario. Grazie a questo tavolo tanti cittadini hanno capito che forse qualche problemino ce l'abbiamo. E questo tavolo con chi si confronta? Con le realtà, per esempio i commercianti, i CIV, la polizia municipale, i carabinieri, i comitati di quartiere, gente comune anche, che hanno dei problemi e portano a conoscenza magari anche dei fatti. Voi avete fatto una cosa importante anche dal punto di vista dell'immagine come comitato? Beh sì, questo ci tengo particolarmente a dirlo perché è stata una battaglia lunga, difficile, tra mille difficoltà, mille problemi che abbiamo avuto anche da gente che non ci aspettavamo. Diciamo le cose come stanno. Contrastata ovviamente da chi non voleva che a Certosa si impiantasse una bandiera dell'antimafia. Come comitato siamo orgogliosi di esserci riusciti a aver intitolato un dei giardini a Peppino Impastato, che è la nostra icona che ce la portiamo dentro al cuore. Grazie. Grazie.